Ingoiare lo sperma fa bene, scopri il perché. Sembrerebbe, diciamo, che ingoiare lo sperma faccia bene, perché ad esempio rallenta l'invecchiamento, poi è anche una sostanza, diciamo, molto nutriente, perché questa sostanza, diciamo, di natura viscosa è principalmente composta da enzimi e ormoni, per cui sembrerebbe, da studi fatti, secondo ricerche, io ho letto di un dipartimento di psicobiologia in Albania, quindi prendiamo col beneficio di inventario, sembrerebbe che questo liquido possa avere un effetto più che benefico sull'umore delle donne che lo deglutiscono, è stato fatto un esperimento su 300 cavie, e quindi, diciamo, migliora l'umore e poi dà anche la possibilità a qualcuno di fare bene alla pelle, rallenta l'invecchiamento della pelle. Questi sono studi che sono stati condotti dall'Università di Gans, austriaca, dove è stata scoperta, diciamo, all'interno del liquido biancastro una molecola denominata spermidina, che avrebbe altri effetti benefici. Ovviamente, diciamo, diciamo, c'è il gusto del sapore, io non so se il sapore, questo devo dire alle donne che praticano, può essere piacevole oppure no, qua, degustibus, non disputando mest, però, insomma, dicono che mangiando poi l'ananas, dopo, possa conferire allo sperma un sapore più dolce e invitante, bere molta acqua, che anche aumenta l'idratazione, diciamo. Ovviamente, dal mio punto di vista, bisogna stare un po' all'occhio, perché ci sono delle malattie, tipo l'HIV, che però potrebbero essere contratte, insomma, quindi fate un po' tutti i controlli da certamente del caso, e poi fate come volete, cari malgacioni, fate come volete. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, Massimo Terramasco ufficiale, seguimi su TikTok, e su tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, amore e autostima, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!